Ciao a tutti ragazzi! Allora oggi è un'altra ricetta natalizia ed è una bevanda. Molti di voi probabilmente la conoscono già se magari andate a sciare in montagna sulle Alpi ed è il bombardino. È una ricetta semplicissima, veloce, probabilmente alcuni di voi sapranno già come farla e non vi serve altro che il bov, ovvero il liquore all'uovo e voi potete scegliere appunto combinazioni diverse se con il latte o con il caffè. Io non ho utilizzato nessun liquore in particolare ma voi potete ovviamente aggiungerlo. Non mi dilungo troppo perché la ricetta è veramente veloce e semplice. Spero che vi piaccia e vi auguro buone feste e alla prossima volta! Ciao! Per prima cosa preparate il caffè e riscaldate bene il bov e il latte. Quindi versate il liquore all'uovo all'interno di alcuni bicchieri piccolini. Scegliete ora la combinazione che più preferite. Potete aggiungere il latte caldo oppure il caffè. Completate con della panna montata fresca senza zucchero e decorate con della cannella oppure del cacao amaro. Ovviamente al vostro bombardino potete aggiungere anche del liquore, ad esempio del whisky che è il più tradizionale oppure del brandy o del rum come più preferite. Facile, veloce e gustoso, perfetto per queste giornate invernali e fredde. Spero che la ricetta vi sia piaciuta! Vi ricordo che se doveste provare le mie ricette potete condividere le foto delle vostre creazioni con il mio canale utilizzando l'hashtag ilcibodellecoccole o CadillinFood sia su Instagram che su Twitter. Cliccando sui riquadri di fianco a me potete vedere le ultime video ricette e vi ricordo inoltre che nell'info box sotto ad ogni video trovate le dosi delle ricette e i link utili ai social network. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale e ci vediamo la prossima volta. Ciao!